Apriamo la prima delle nostre tre puntate settimanali parlando di un appuntamento che ci porta dritti nel mondo della poesia e della letteratura in particolare di un personaggio sicuramente conosciuto che ha detto tanto, lo ha detto in modi anche un po' particolari insomma batti beccando con il pubblico e non solo, parliamo del grande Bukowski e di uno spettacolo che sarà dedicato a lui tra l'altro quest'anno, il 2024, è il trentennale della scomparsa del poeta e scrittore insomma uno spettacolo che ci sarà venerdì al Castoro Teatro, venerdì prossimo 17 alle ore 21 uno spettacolo a firma di un gruppo musicale riminese, i Rusty Fingers e sono qui con noi e Teo, Andy e Roby, proprio dei Rusty Fingers, che ci raccontano un po' la storia di questo spettacolo ma soprattutto io direi di cominciare salutandoli e poi facendoci raccontare la loro storia ciao ragazzi, grazie per essere qui con noi ciao a tutti, ciao Remini allora Matteo, io comincerei con te per farci raccontare un po' chi sono i Rusty Fingers chi sono? chi sono? chi c'è dietro questo spettacolo? allora prego, vicino al microfono domanda facile, ti ringrazio siamo un gruppo di amici, noi abbiamo sempre suonato dai tempi del liceo nei tempi del liceo abbiamo sempre suonato e abbiamo fatto diverse esperienze chiaramente data la veneranda età, ormai di esperienze ne abbiamo accumulata ci siamo ritrovati come diciamo punto di incontro dei nostri passati progetti io e Andrea suonavamo nei Marshmallows, un gruppo riminese che insomma di punk ne ha fatto, ne ha scritto, ne ha raccontato Roby ha sempre fatto le sue esperienze nei tuoi gruppi, che adesso non mi ricordo e quindi siamo arrivati in fondo al capolinea, ci siamo chiamati Rusty Fingers perché sostanzialmente ne abbiamo voglia di suonare ok, quindi una band che fa, immagino insomma da come l'hai detto, ma poi vi conosco anche musica rock musica rock fondamentalmente perché è quello che sappiamo fare e abbiamo cercato, siccome ormai Rimini è piena di progetti che riguardano tributi a questo, tributi a quello, tributi a quell'altro abbiamo detto ma sai che c'è, non mettiamoci in concorrenza con tutto questo mare magnum di situazione con tutto questo tributare, non mettiamoci in concorrenza, lasciamo stare, facciamo quello che ci piace che è fare musica, come negli anni 90, c'erano i gruppi cover che facevano il loro cover, la loro musica quello facevano e noi abbiamo deciso, facciamo quello che ci piace, genere, se ci piace la facciamo se non ci piace non la facciamo quindi una musica anche molto, che per voi è anche un piacere mi pare di capire, prima ancora insomma che è un'esibizione è la voglia di suonare ti dico una grande verità, per suonare ci vuole solo una cosa, una passione smodata perché il lavoro è immenso e in mezzo c'è anche il lavoro di tutti i giorni, le famiglie, perché come hai detto tu l'età è aumentata non siete, non siamo più ragazzini, gli impegni della giornata sono tanti questi sono i Rusty Fingers, invece Andy chiedo a te come è nato questo progetto si parla appunto di Bukowski, un personaggio insomma un gigante della letteratura un personaggio come si chiacchierava prima anche fuori onda che sicuramente ha tante affinità con il mondo rock punk insomma proprio per questo suo modo di scrivere, di raccontare cosa gli dedicate e come siete arrivati a costruire questo spettacolo scusa se io vorrei chiudere il discorso Rusty anche presentando gli altri non abbiamo detto i nomi che è una band di sei persone a parte noi tre, Roby, Andy e Teo ci sono Fabio al basso c'è Filippo alle tastiere e Mirko Zebezzattini alla voce, il cantante e voi scusi, invece cosa suonate? io le maracas, lui suonano no, chitarra, chitarra e batteria e pensavo di avere dei pletti, delle bacchette che fosse identificativo e così dai, abbiamo chiuso e abbiamo presentato anche gli altri così e allora, perché Bukowski? la genesi di questa nostra nuova avventura più o meno ha funzionato così io ho circa tre anni che partecipo a dei corsi di teatro delle situazioni teatrali nel teatro qua di Rimini era il mulino di Amleto, adesso si chiama Castoro Teatro ricordiamo tra l'altro, una parentesi che proprio un paio di mesi fa abbiamo avuto qui in trasmissione Davide Giovannini che insieme a Thomas ha dato vita un po' al Castoro Teatro e proprio ci raccontava di come avessero avuto l'idea anche di aprire il palco diciamo a spettacoli forse un po' meno canonici per il mondo teatrale e dare proprio spazio a queste iniziative scusa l'interruzione certo, esatto queste hanno avuto in mente per riuscire a creare più situazioni di fare delle serate musicali e me l'hanno proposto perché facendo teatro comunque ne parli sanno che chi suona in questo caso io che ho delle situazioni, una band così e avevano quest'idea di fare delle serate musicali noi abbiamo accettato logicamente subito però noi abbiamo pensato cosa facciamo in una situazione come il teatro che sia diversa dalle solite cose che fai magari l'estate noi sogniamo principalmente d'estate insomma fare le serate d'estate e allora ci è venuto in mente di mischiare le carte anche di buttarci in una cosa che non sapevamo se riuscivamo a realizzarla non so se ho coniugato bene sicuramente realizzare uno spettacolo costruirlo da zero non è un'impresa facile neanche per chi lo fa diciamo per professione quotidianamente tutti i giorni per cui per chi magari ci mette le mani in pasta la prima volta immagino che le difficoltà non siano poche quindi noi abbiamo pensato di fare ci è venuto in mente di fare qualcosa che mischiasse a metà la musica che suoniamo noi rock o quello che è con il teatro con la recitazione e per accumulare le due cose appunto abbiamo scelto Bukowski anche perché era una lettura che facevamo magari in età giovanile quando avevamo vent'anni così e questo è stato un po' appunto il motivo di questa scelta qui e nella sua costruzione di cui poi vi parlerà dopo Roby quello che volevo dire è stato secondo me secondo noi è stato molto bello perché ok l'idea c'era ma tutte le volte che ci si pensava cioè pensarlo realizzato è ben diverso e adesso che ce l'abbiamo e non sapevamo se riuscivamo a arrivare fino alla fine tra l'altro scusa stiamo stiamo vedendo per chi ci segue in tv delle immagini che raccontano di un altro vostro spettacolo diciamo così teatrali in qualche modo sul palco quindi questa di Bukowski quella che è venerdì sarà diciamo la prima di questo spettacolo non è comunque la primissima esperienza che avete fatto di questo mondo un po' un po' misto diciamo così diciamo che ci abbiamo preso un po' la mano in effetti è il secondo perché comunque essendo molto amico della dirigenza del Castoro Teatro a noi di serate ce ne avevano andate due no? per dispetto per dispetto addirittura o forse l'ho presa io vabbè non la lasciamo perdere però anche qui qui abbiamo fatto una cosa prettamente musicale ma è stato molto bello anche questo spettacolo qui perché abbiamo raccontato si chiamava Rotto Rusty ovvero la strada che ha portato ai Rusty Fingers quindi noi comunque abbiamo raccontato una storia in musica praticamente abbiamo portato sul palco la genesi di una band in questo caso del nostro territorio piccola no? come lo siamo noi insomma non una band di professionisti no? che lo fa di lavoro e quindi è bello perché sempre con l'aiuto e qui lo voglio dire di una sequenza di video mostrati di programmi di proiezioni che ci fa il nostro insostituibile amico Luca Marro e ti ringraziamo con tutto il cuore e anche qualcos'altro e praticamente questo spettacolo iniziava con una persona sul palco poi se ne aggiungeva un secondo elemento poi un terzo elemento finché siamo arrivati a una formazione da nove elementi ognuno di queste aggiunte veniva raccontata la storia da dove veniva il personaggio che passato aveva quindi è stata una cosa veramente molto bella anche quella questa quindi diciamo un po' la genesi dello spettacolo come è nata l'idea anche di Bukowski dicevi sicuramente un autore che in qualche modo avevate letto e conosciuto ma lo spettacolo Robby come sarà strutturato? Cioè chi sarà venerdì al Castoro Teatro speriamo tanti noi lanciamo l'invito a tutti cosa vedrà? Allora vedrà uno spettacolo in tre atti adesso senza raccontare neanche troppo perché dai lasciamo un po' diciamo di sorpresa ci saremo ovviamente noi sul palco un po' sì un po' no un po' meno protagonisti diciamo rispetto allo spettacolo precedente perché lasceremo molto spazio anche a una parte recitata e ci sarà un attore che è Francesco Martini bravissimo cioè lo dico tra parentesi noi ci siamo no noi ci siamo ci siamo emozionati molto lavorando con lui perché insomma poi chi verrà lo vedrà lo sentirà esatto e niente è uno spettacolo in tre atti che alterna appunto parti recitate a a pezzi musicali che eseguiremo noi diciamo che allora per dare giusto due informazioni lo spettacolo vuole raccontare un pochino la vita di Bukowski attraverso le sue parole ok quindi quindi non c'è una narrazione esterna non c'è una narrazione esterna non ci sono cose che magari abbiamo scritto noi che abbiamo inserito tutto quello che si sentirà recitato sono parole di Bukowski prese dai suoi romanzi dalle sue poesie dai suoi diari e così e racconterà tre momenti diciamo un po' della sua vita diciamo adesso non mi spiego ok rimaniamo su questi tre momenti prima di proseguire poi di salutarci ci guardiamo però assieme un trailer dello spettacolo che avete realizzato chi lo ha realizzato e le trailer che stiamo per guardare il nostro grande insostituibile Luca Marro che abbiamo citato poco fa esatto che tra l'altro è proprio la voce originale di Bukowski che presenta lo spettacolo allora chiedo alla regia se lo mandi in onda ce lo guardiamo poi torniamo qui i didn't go home for some time only now and then to try to get a dollar from dear mama it was 1937 in Los Angeles and it was a hell of a Vienna I ran with these older guys but for them it was the same mostly breathing hard air and robbing gas stations that didn't have any money and a few lucky among us worked part time as Western Union messenger boys we slept in rented rooms that weren't rented and we drank ale and wine with the shades down being quiet quindi musica alcol poesie Bukowski che incontreremo venerdì sera insieme ai Rusty Finger Rusty Fingers come ci come ci salutiamo cosa volete dire come volete invitare le persone a questo spettacolo per noi è facile in realtà cioè noi quello che possiamo dire è che è uno spettacolo che ci ha appassionato molto realizzare ci è proprio piaciuto e secondo noi è proprio bello poi su Bukowski non c'è niente da dire insomma chi lo conosce chi non lo conosce però Bukowski è sempre un personaggio che comunque resta resta in mente insomma e poi ci saremo noi con la nostra musica con la vostra storia che mi pare insomma che sia una storia sì vogliamo dare un'indicazione di qualcosa che suoneremo o lasciamo tutto alla storia perché magari uno si aspetta anche Claudio Villa no no lasciando un po' di sorpresa magari un paio di nomi può essere può essere attenzione perché sei in diretta è quello che dici poi rimane ma faccio un paio di cognomi senza deritire abbiamo Pink Floyd Bowie Nine Inch Nails mi fermo qui sì un altro dai dai solo un altro dai Rolling Stone beh quindi insomma nomi grossi della musica e venite venite perché è veramente diverso bello anzi a noi ci dispiace veramente tantissimo ci si stringe il cuore per chi non vedrà questo spettacolo e viverà tutta la sua esistenza se c'è una cosa così originale addirittura adesso lo esageriamo dai c'è qualche parolaccia vabbè con Bukowski mi sarei stupito del contrario sotto i 14 anni forse no no portateli perché così crescono bene con tanta bella poesia e come diceva Andy quando si parlerà di questo spettacolo potrete dire io c'ero io ero lì e l'ho visto grazie allora ai Rusty Fingers e ricordiamo grazie molto a voi venerdì sera venerdì 17 alle ore 21 al Castoro Teatro a Rimini canzoni di Ordinaria Follia i Rusty Fingers incontrano Bukowski questo è quanto insomma noi rilanciamo l'invito dei Rusty Fingers a partecipare per uno spettacolo insomma che racconta musica poesia e come per tornare all'inizio ci raccontava Davide Giovannini di Castoro Teatro dà spazio anche a forme diverse di fare intrattenimento di fare di coinvolgere la cittadinanza quindi è giusto anche essere presenti e far sentire il proprio calore adesso ci prendiamo una pausa musicale a tra poco grazie a tutti